Tecnologia è umanità La tecnologia è entrata oramai in tutti gli aspetti della nostra esistenza e anche quello della cucina e della gastronomia e di questo parleremo questa sera Buonasera a tutti Abbiamo fatto in questi anni un percorso legato all'innovazione Abbiamo iniziato a guardare dentro la tazzina ad ascoltare la tazzina Ferran, qual è stata la tua esperienza in Coffee Sapiens? Come comprendiamo questo, no? Nostra teoria è che è collegato con la gente E questo è il lavoro di questi anni E questo è il lavoro di questi anni Abbiamo iniziato a guardare dentro la tazzina